Ben tornati con l'informazione di Antenna Sud, stiamo per collegarci di nuovo in diretta dalla capitale con Maria Teresa Carrozzo che ci sta aggiornando sugli ultimi sviluppi. Secondo indiscrezioni oggi dovrebbe essere il giorno della fumata bianca ma da quello che sta accadendo tutto è molto fluido e magmatico. Maria Teresa dici di più. Allora appena siamo in grado di collegarci con Roma torneremo ad aggiornarvi sulla corsa al colle. Intanto le ultime da Bari davanti alla Bosch un presidio, lo avrete sentito nell'escorsione nei nostri Tg, per 700 esuberi c'è l'auto elettrica che schiaccia il settore dell'automotive e quindi c'è l'allarme lanciato da questi lavoratori che rischiano di perdere tutto. Sentiamo. La task force in regione, la Bosch, ha detto che ci sono 700 esuberi entro il 2027. Ci ha detto qualcosa in più che ci preoccupa, che nel giro di 5 anni dobbiamo lavorare per garantire gli altri 1000 lavoratori, perché questa è una fabbrica che fa 1700 lavoratori, di cui 700 già in cassa rotazione e dobbiamo lavorare attraverso processi di abbattimento del costo del lavoro, processi socialmente compatibili. Noi siamo abituati a discutere di crisi industriali con un piano industriale che traghetta, che riduce, che fa transizioni. Qui non c'è un piano. L'idea di Bosch evidentemente è quella di tenere l'azienda di Bari a margine del proprio gruppo, perché sta investendo nelle transizioni energetiche verso l'elettrico in altri paesi, dove evidentemente il costo del lavoro è più basso, dove ci sono interessi economici maggiori e non sta investendo in un'azienda come quella di Bari, che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento importante per la Bosch. Segretario, adesso quale sarà il prossimo step? Noi abbiamo bisogno necessariamente di un tavolo nazionale. Giorgetti è venuto qui qualche mese fa, ha voluto incontrare solo l'azienda, bontà sua, non ha voluto incontrare i lavoratori, questa volta deve ascoltare i lavoratori, deve ascoltare le legittime aspettative, le legittime proposte dei lavoratori, perché dobbiamo rilanciare questa azienda sul nostro territorio e quindi c'è bisogno di un tavolo allo sviluppo economico. Lavoreremo con gli altri sigli sindacali ovviamente con le quali c'è un progetto, una piattaforma, un'Italia sulla quale stiamo discutendo, dopodiché se non ci saranno risposte ci sarà anche la mobilitazione, non c'è dubbio. Ci sono tantissime famiglie, 1700 famiglie che vivono dalla Bosch. Qual è lo scenario adesso all'interno? Più che altro qual è l'umore dei lavoratori? L'umore di preoccupazione e soprattutto di sconforto, perché dopo anni di premi vinti con la Bosch i lavoratori si ritrovano questa notizia sui giornali. Diciamo che era una notizia che ha fatto clamore e adesso suscita decisamente preoccupazione tra i lavoratori. E dunque, lo avete sentito, CGL si dice pronta la mobilitazione di fronte alla notizia dei 700 esuberi entro il 2027 annunciati dalla azienda. E continuiamo con l'approfondimento sul caso Bosch. Ci sono anche le preoccupazioni del presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. L'aumentare di auto elettriche e l'esaurirsi del diesel ha spinto la direzione dello stabilimento di Bari della Bosch a determinare un'eccedenza nei prossimi cinque anni di circa 700 esuberi su un organico di 1700 lavoratori. Lo hanno reso noto i sindacati Wilb e Fimcis. Secondo il segretario nazionale Fimcis, Ferdinando Ugliano, e il segretario generale Fimcis Bari Donato Pascazio ci potrebbero essere addirittura ulteriori eccedenze di circa 500 unità entro il 2035. La situazione è perfino più grave poiché è a rischio la sopravvivenza stessa della fabbrica, aggiunge Gianluca Ficco, segretario nazionale Wilm. La Wilm chiede alla Bosch di portare a Bari lavorazioni che oggi sono affidate all'esterno e assegnare una missione produttiva adeguata nell'ambito della green economy. La riconversione di Bari, dice il sindacato, deve essere una priorità nazionale. Se la normativa europea vieterà i motori endotermici e se i soldi del PNRR sono davvero finalizzati alla transizione energetica, allora la priorità assoluta deve essere finanziare la riconversione industriale di grandi fabbriche, come la Bosch di Bari, che oggi è focalizzata sui motori endotermici. Anche Fimcis chiede alla casa madre Bosch quali risorse economiche è disposta di investire su Bari per la riconversione produttiva. È necessario aprire un confronto in sede ministeriale per Bosch con la presenza del ministro dello sviluppo economico, dove il gruppo deve presentare un piano di reindustrializzazione del plant che consenta di azzerare gli esuberi denunciati, evidenziando gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie. È altrettanto indispensabile, concludono i sindacati, che venga riconvocato il tavolo ministeriale per individuare strumenti e risorse per un settore che è investito da un cambiamento strutturale. Torniamo a parlare del caso che coinvolge la Puglia Film Commission su una presunta aggressione da parte del direttore generale parente nei confronti dello Monaco. Bene, il CDA ieri ha rimandato la decisione sulla revoca dell'incarico del direttore generale che però resta sospeso. Sentite. Alla fine si è deciso di non decidere, almeno per il momento. Un nuovo tassello si aggiunge alla guerra intestina della Puglia Film Commission. Dopo la nomina di tre nuovi esponenti, il Consiglio di amministrazione della Fondazione è tornato a riunirsi per discutere sulla revoca dell'incarico di direttore generale ad Antonio Parente, ma non è stata presa alcuna decisione. È in discussione la proposta della Presidente Simonetta dello Monaco di togliere l'incarico a Parente. Già nelle scorse ore è sanzionato con una sospensione di dieci giorni. Il CDA tornerà a riunirsi molto probabilmente la prossima settimana, ma non c'è al momento unanimità sulla decisione da prendere. Parente è accusato anche attraverso una denuncia penale della Presidente dello Monaco di averla aggredita verbalmente e fisicamente durante una discussione di lavoro. Accusa che Parente ha sempre negato che sia mai avvenuta. Dopo l'avvio del procedimento disciplinare, sono stati ascoltati alcuni testimoni che avrebbero parzialmente confermato l'episodio. E adesso invece facciamo il punto con il bilancio tracciato dalla squadra forestale dei Carabinieri di Puglia per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, eco-mafie e incendi boschivi, perché questi reati vedono purtroppo la Puglia tra le regioni d'Italia con peggiore performance. Le province più colpite, quelle di Bari, Bat e Foggia. Durante la pandemia sono cresciuti i reati ambientali in Puglia. Abbandono e illecito smaltimento dei rifiuti e incendi boschivi, i fenomeni più gravi nella nostra regione. Le province di Foggia, Bari e Bat, quelle più colpite. È stato illustrato il bilancio 2021 delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti forestali, ambientali e agroalimentari condotte dai reparti forestali dell'arma dei Carabinieri sul territorio regionale. 71.000 controlli in fase di prevenzione, 3.400 illeciti amministrativi con un aumento del 15,13% delle sanzioni inflitte, il cui ammontare complessivo è stato pari a circa 3 milioni e mezzo di euro. Quella dei rifiuti continua a costituire una delle criticità di maggiore gravità per l'ambiente in Puglia. I Carabinieri forestali hanno eseguito 9.300 controlli, in particolare i fenomeni di illecito smaltimento attraverso gli abbandoni e le combustioni, soprattutto nelle campagne, nonché le discariche abusive e i depositi incontrollati. Ci sono interventi anche delle cosiddette eco-mafie e la criminalità organizzata che conduce determinati processi nei quali non solo l'arma dei Carabinieri ma anche altre forze di polizia contrastano e cercano di contrastare il fenomeno a più alti livelli. Ma la vera piaga in Puglia è quella degli incendi boschivi, come evidenzia il generale Antonio Mostacchi. La piaga degli incendi boschivi è quella che più di tutte ci preoccupa. La Puglia oggi è la quinta regione d'Italia come numero di incendi boschivi, 478 nello scorso anno, oltre il 20% in più. Noi siamo preoccupati per delle forme di speculazione del territorio post incendio, tant'è vero che oggi riscontriamo che oltre il 58% dei comuni della nostra regione sono inadempienti rispetto all'aggiornamento del catastro delle superfici percorse dal fuoco. Siamo in grado ora di collegarci con Roma dove è per noi in diretta per aggiornarci sulla corsa al Colle. Maria Teresa Carrozzo, aggiornaci sulle ultime indiscrezioni. Le ultime indiscrezioni sono che sono terminate ormai le operazioni di voto e a secondi inizierà lo spoglio, uno spoglio che potrebbe portare all'elezione del Presidente della Repubblica anche se il punto interrogativo diventa sempre più grande, diventa quasi una certezza. Ovviamente il centrodestra ha portato e ha compatto il nome della Casellati, un nome però che non è stato abbracciato dal centrosinistra del Movimento 5 Stelle e dal PD. Il PD addirittura ha accusato la coalizione centrodestra di aver mancato di rispetto alla seconda più alta carica dello Stato, bruciandola su un tavolo sapendo che non era un nome condiviso da tutti i rappresentanti di governo. Ecco, onorevole, la lettura politica che dà il centrosinistra è abbastanza critica nei confronti di quelle che sono state le operazioni dei leader del centrodestra per trovare un nome compatto. Lo trovo sinceramente paradossale perché il centrodestra ha espresso un nome di grandissima qualità, la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati e quindi disconoscere il valore di questa candidatura onestamente ci ha molto delusi. Il centrosinistra non era sicuro dei propri grandi elettori, la dimostrazione l'abbiamo avuta dal fatto che non ha fatto partecipare i propri grandi elettori al voto perché temeva che ci potessero essere al proprio interno dei franchi tiratori. Il centrodestra si è esposto, ha fatto un nome, ha fatto il nome della seconda carica più alta dello Stato per cui se poi il centrosinistra continua a pretendere di voler rimporre il nome è chiaro che la situazione è una situazione complicata. Se oggi non dovesse uscire neanche nella seconda chiama che sarà alle 18 il nome del Presidente della Repubblica, domani che succederà? Intanto succede che stiamo dando uno spettacolo penoso alla nazione perché queste manfrine dimostrano che questo Parlamento non è in grado di scegliere, esprime che maggioranze così eterogenee non sono in grado di prendere posizioni. Per cui quello che Fratelli d'Italia aveva auspicato da tempo, cioè vale a dire con la nostra proposta di riforma dell'elezione diretta del Capo dello Stato, i cittadini avrebbero deciso in un giorno. Quindi speriamo che intanto sia l'ultima volta che si assiste a questo spettacolo penoso perché la gente che deve andare a lavorare tutti i giorni, onestamente credo trovi imbarazzante quello che stiamo facendo qui. E questa è la situazione e la fotografia di ciò che accade a Roma. Se non avete domande dallo studio io vi ripasso la linea. Grazie, grazie per questa corrispondenza. Torneremo ovviamente a collegarci con Roma ad aggiornarvi nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Oggi quinto scrutinio. dunque cambiamo argomento. Parliamo di quello che sta accadendo a San Severo nel Foggiano dove si è verificato un quarto, pensate, quarto attentato dinamitardo, il quarto in un mese. E in tutto sono 11 gli atti intimidatori registrati in Capitanata dall'inizio del 2022. Torna la paura a San Severo a seguito del quarto episodio incendiario dall'inizio del 2022. Un rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto la scorsa notte la pizzeria a Chiang in via Soccorso. Il proprietario aveva chiuso il locale pochi minuti prima che divampasse l'incendio. Il locale è stato dichiarato inagibile ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, messo in sicurezza l'intera area e avviato gli accertamenti per stabilirne la natura. Le indagini sono affidate ai carabinieri che non escludono la pista dolosa. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sicurezza. In tutta la provincia di Foggia salgono complessivamente a 11 le intimidazioni registrate nelle prime settimane del 2022 e a fronte delle quali lo Stato ha intensificato le risorse e le attività di presidio così come è anticipato e disposto dalla stessa ministra dell'interno Luciana Lamorgese, giunta in Capitanata lo scorso 17 gennaio per presiedere il Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. In tutta la provincia di Foggia proseguono incessanti le attività investigative oltre ai servizi ad alto impatto fortemente voluti dalla ministra, con l'impiego massiccio di centinaia di uomini delle forze dell'Ordine impegnati in perquisizione e posti di blocco e di controllo, anche un pool di specialisti composto da artificieri, biologi e chimici del Servizio di Polizia Scientifica di Roma e del Gabinetto Interregionale di Bari e al lavoro per esaminare il materiale repertato in occasione degli attentati incendiari e dinamitardi di Foggia e San Severo. Si continua a cercare Michele Cilli nelle campagne e a largo della costa di Barletta. Ancora nessuna traccia del 24enne scomparso dal capoluogo della Batta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorsi. Le forze dell'Ordine sono all'opera con gli speleologi e i cani molecolari per tracciare dettagliatamente l'agro cittadino, con particolare riferimento all'area nord-ovest. Rinvenuti anche dei resti umani all'esterno del cimitero, ma riconducibili ad un momentaneo quanto insolito trasferimento interno alla struttura. Continuano poi le analisi sulla golf nera sequestrata ormai dieci giorni fa. Si brancola ancora nel buio sulla scomparsa di Michele Cilli, intensificate le ricerche per il 24enne di Barletta, di cui non si hanno più notizie ormai dal 15 gennaio. Le autorità hanno messo in campo mezzi e agenti per svolgere indagini più accurate, ma del ragazzo non c'è ancora nessuna traccia. Rinvenuti all'esterno del cimitero cittadino due sacchi bianchi contenenti ossa e resti umani, ma dei primissimi rilievi effettuati, farebbero parte di un momentaneo trasferimento interno alla struttura, così come non si hanno ulteriori aggiornamenti sui tre fusti che avrebbero contenuto acido muriatico ritrovati in località fiumara e tuttora senza alcun collegamento con la vicenda. Continuamente all'opera i sommozzatori a largo della costa di Barletta, principalmente lungo la litoranea di Ponente, nelle campagne adiacenti invece, i vigili del fuoco e la polizia di Stato stanno effettuando il lavoro di rastrellamento con un team di speleologi e con i cani molecolari ultimando il censimento di pozzi e casolari. Nell'agro a nord-ovest della città proseguono invece i rilievi sulla golf nera sequestrata ormai dieci giorni fa. La scientifica avrebbe trovato alcune tracce attualmente sotto analisi dalla mappatura fatta con il lumino. L'auto sarebbe stata lavata prima del sequestro. Nel frattempo il criminologo Gianni Spoletti, rappresentanza dalla famiglia Cilli insieme all'avvocato Michele Cocchiarole, ha chiesto di poter visionare le immagini di videosorveglianza di piazza 13 febbraio. I familiari chiedono verità, mentre le speranze di ritrovare Michele in vita sono ormai ridotti al minimo. Dunque ci chiedono nuovamente la linea da Roma perché c'è un nuovo ospite che potrebbe anche aiutarci a delineare meglio il quadro complessivo di questa complessa corsa al colle. Maria Teresa. Grazie mille, ho chiesto la linea perché vicino a me c'è il presidente della regione Basilicata che può dare anche una visione completa di quelle che sono le emergenze che i propri presidenti di regione hanno portato qui a Roma. Voi avete più volte chiesto che si faccia presto, che si elegga anche il capo di Stato subito in tempi brevi per poter poi rimettersi al lavoro perché la politica è ferma e i territori in un momento di emergenza hanno bisogno di risposte immediate. Certo, questo è stato detto, come ha detto lei, i territori hanno bisogno di andare avanti e sicuramente questo tempo che è un tempo importante per l'elezione del capo dello Stato però abbiamo chiesto che si faccia in fretta e che si arrivi a una decisione che veda un po' tutti d'accordo perché, ripeto, oggi noi come centrodestra abbiamo votato per la Casellati ci auguriamo che possa essere un punto di riferimento, fra l'altro è la seconda carica istituzionale dello Stato e quindi riteniamo che sia un punto importante per trovare anche una forma di coesione da parte di tutti, anche da chi continua a creare e a fare un po' il pugno di ferro. Noi riteniamo però che sia indispensabile dare delle risposte chiare, l'individuazione della Casellati è sicuramente molto importante perché fra l'altro è una personalità al di sopra che può dare garanzie di continuità su quello che è stato il periodo precedente quindi quello fatto da Mattarella. L'augurio e l'auspicio da parte di tutti è che si faccia in fretta, ci sarà una seconda votazione, una seconda chiama alle 17 di oggi, speriamo entro oggi di arrivare a un punto di conclusivo, di coagulo perché credo che questo sia importante che il Paese si aspichi, che si arrivi a una definizione nel più breve tempo possibile. E questa è una delle voci anche degli esponenti ovviamente dei Presidenti di Regione che sono qui a chiedere che si faccia in fretta. Vi ripasso la linea allo studio, grazie mille. Grazie, grazie alla nostra corrispondente da Roma. Bene, queste le istanze insomma delle regioni, di un Presidente di Regione e di tutte le regioni che nel corso di queste ore lo hanno ribadito più volte, c'è la necessità di tornare a occuparsi delle urgenze del Paese e quindi la necessità di fare in fretta. E adesso invece ci spostiamo a Bari nel capoluogo oggi. Il Sindaco Antonio De Caro ha consegnato le chiavi della città a De Tullio, ex capo della Digos, il quale ha anche dedicato questo omaggio ai due poliziotti di Taranto che sono stati coinvolti in una brutta sparatoria, lo ricorderete negli scorsi giorni. Proprio un omaggio dedicato al sacrificio, al grande senso di impegno e dedizione delle forze di polizia. Guardate. Cerimonia di riconoscimento all'impegno e alla dedizione di un uomo che per lungo tempo ha servito il territorio. Il Sindaco di Bari Antonio De Caro consegna le chiavi della città Michele De Tullio che per oltre dieci anni ha diretto la Digos della Questura di Bari, una delle articolazioni più delicate della Polizia di Stato sul territorio. Impegnato quotidianamente con professionalità e valore, grazie al suo impegno Bari negli ultimi dieci anni ha vissuto da protagonista grandi eventi internazionali, il G7 Finanze, il Sinodo del Mediterraneo e gli eventi di preghiera del Pontefice, con un'organizzazione ritenuta da più parti affidabile ed efficiente. Non erano facili da organizzare, grazie alla loro preparazione siamo riusciti a far funzionare tutti ed è per questo che spesso molti eventi oggi vengono organizzati nella città di Bari, proprio perché abbiamo dimostrato di saperli organizzare e di fare tutto in sicurezza. Sono orgoglioso di questo riconoscimento perché sono barese doc mi definisco e quindi per me è un doppio riconoscimento a questo. E soprattutto lo vedo come un riconoscimento dato non a Michele De Tullio ma alla Polizia di Stato e che come sapete con i suoi uomini e per strada tutti i giorni, tutte le notti, con qualsiasi condizione climatica e pagando a volte di persona le conseguenze che sono state sotto l'occhi di tutti. C'è stato riferimento di questi due colleghi a Taranto. Questo riconoscimento da parte del Comune di Bari la dedico ai due ragazzi, a Viaggio e all'Angelo e a tutti gli altri uomini che sono sulla strada tutti i giorni per garantire la sicurezza di tutti. Una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Trani ha portato al rinvio a giudizio di 32 persone che tra il 2011 e il 2019 hanno compiuto furti e rapine tra la BAT e la zona settentrionale della provincia di Bari. Tra le figure coinvolte ci sono diversi membri dell'arma dei carabinieri e un assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Trani. Numerosi pregiudicati avrebbero agito con il benestare degli agenti presumibilmente corrotti in cambio di parte della refurtiva spicca tra i rinviati a giudizio in nome di Flavio Dintrono che aveva già patteggiato due anni e mezzo di reclusione per il sistema Trani sulla corruzione in atti giudiziari. Sono 32 i rinvii a giudizio chiesti dal sostituto procuratore Marcello Catalano per un sistema di corruzione tra carabinieri, agenti della Polizia Penitenziaria e pregiudicati in azione tra Bari e BAT. La maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Trani si estende su un periodo che va dal 2011 al 2019 durante il quale sarebbero stati commessi furti e rapine tra le due province con vantaggi economici reciproci tra forze dell'ordine corrotte e malviventi. Decisiva in tal senso la posizione di Tommaso Nuzzi, pregiudicato di Corato che nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia. Dalle sue rivelazioni sono emerse le responsabilità di tre militari dell'arma dei carabinieri, un luogotenente e due vicebrigadieri in attività tra le compagnie di Molfette Corato, un assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Trani e numerosi pregiudicati già noti alle forze dell'ordine tra i rinvii a giudizio. Spicca quello di Flavio Dintrono, già noto per il cosiddetto sistema Trani, detenuto per usura e accusato di concorso in corruzione di atti giudiziari. L'imprenditore di Corato ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione ma sarebbe coinvolto anche nei furti e nelle rapine con altre 11 persone tra Bari, Trani e la stessa Corato. La rete illecita è stata favorita direttamente dagli agenti corrotti che segnalando i propri tuoni di servizio notturni permettevano ai malviventi di agire indisturbati in cambio di 500 euro per ogni colpo messo a segno. A ciò si sono aggiunti negli anni omissioni di atti d'ufficio e favori personali all'interno del carcere di Trani. Le 32 persone rinviate a giudizio dovranno attendere l'udienza preliminare del 22 febbraio presso il Tribunale di Trani davanti al giudice per le indagini preliminari. Ivan Barlafante. Foggia piange la scomparsa di Camilla Di Pumpo, giovane avvocatessa, vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nelle scorse ore in città. Tutta la comunità è sotto shock per la grave perdita ma c'è anche indignazione per un vile atto di sciacallaggio che ha portato un uomo a derubare la vittima del suo cellulare. Camilla Di Pumpo avrebbe compiuto 26 anni tra poche settimane ma purtroppo è stata strappata prematuramente al suo futuro, alla sua famiglia, ai suoi affetti. La giovane è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 gennaio scorso nei presi del centro storico di Foggia tra via Matteotti e via Urbano. La vittima era alla guida di una Fiat Panda che per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con un'auto che giungeva nel senso posto di marcia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118. La 25enne è deceduta dopo un'ora in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che indaga sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità del conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro. Sarebbe stato denunciato a piede libero invece il passante che avrebbe asportato dal luogo del sinistro pochi minuti dopo l'accaduto e con la giovane ancora nell'abitacolo della propria auto il suo cellulare. Una scena ripresa da alcuni residenti della zona che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web e permesso alle autorità competenti di individuare l'autore del furto. Camilla aveva conseguito la laurea in giurisprudenza e condivideva la professione forense con il suo compagno e presidente Aiga Foggia, l'avvocato Mario Aiezza, che poche ore fa sulla propria pagina Facebook ha condiviso un commuovente messaggio dedicato alla compagna e all'intera comunità che si è stretta intorno a lui e alla famiglia della ragazza. Avrei voluto mettere questa foto che tu adoravi in un nostro momento importante, scrive il compagno di Camilla. La metterò ora però in un momento di atroce e lancinante dolore, un momento nel quale il tuo sorriso e i tuoi occhi sono stati crudelmente e ingiustamente spenti. Parliamo dei fondi del PNRR e vediamo su che cosa punta la città di Andria. I fondi del piano di ripresa e resilienza interesseranno anche la città di Andria. L'amministrazione comunale ha effettuato un incontro tecnico per analizzare i progetti che verranno inclusi nel piano di rigenerazione urbana. Per il comune federiciano saranno disponibili 20 milioni di euro, una somma che andrà investita nella riqualificazione di Palazzo Ducale e nei quartieri Fornaci e San Valentino. Presenti all'incontro il sindaco Giovanna Bruno, l'assessore ai lavori pubblici Mario Loconte e la dirigente comunale che seguirà le operazioni, l'ingegnere Santola Quacquarelli, riflettori puntati sulla parte burocratica del piano economico. L'assegnazione dei lavori e lo start ufficiale delle attività vanno espletati entro il 30 giugno 2023, mentre il termine ufficiale delle cantierizzazioni previste è fissato per il 2026. Andria raggiunge così una cifra di 65 milioni di euro in due tranche, utili per rinnovare il volto della città e renderla ulteriormente spendibile sotto l'aspetto turistico, commerciale e sociale. Una via che hanno intrapreso anche gli altri due capoluoghi della BAT, anche a Barletta, sono andati 65 milioni di euro, 50 invece sono stati assegnati a Trani. Siamo in chiusura del nostro telegiornale, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.